PADDEL CORPORATION Campi da paddle sì, ma non solo. Paddle Corporation, infatti, azienda leader nel settore a livello nazionale e internazionale, incrementa i servizi da offrire alla propria clientela. E questo grazie alla sinergia con una società di Iesi, che realizza soluzioni informatiche. A spiegare la novità, il responsabile commerciale Andrea Rossetti. Noi stiamo crescendo molto, abbiamo fatto campi certificati, quindi la nostra clientela è sempre una clientela medio, medio alta, alta, comunque clientela che vuole campi di un certo livello. Oltre ai campi ci chiedono servizi, i nostri clienti ci chiedono magari consigli su come gestire la loro società sportiva. Grazie alla conoscenza di Francesco Barchiesi, presidente della CNA di Iesi e tutta la Vallesina, abbiamo fatto questa alleanza e diamo questo servizio aggiuntivo ai nostri clienti, che permette di avere veramente una consulenza professionale sulla gestione a livello burocratico delle società sportive. Dunque, con questa collaborazione, Paddle Corporation propone un sistema per gestire a livello burocratico e fiscale le esigenze delle società sportive, potendo sempre contare su di una consulenza professionale di alto livello. Francesco Barchiesi è il titolare della società che ha sviluppato il software. Soluzione Terzo Settore nasce in collaborazione con Paddle Corporation per la gestione amministrativa e fiscale delle associazioni sportive direttantistiche. Pertanto, avere un software gestionale in cloud che vi permette di gestire da un punto di vista di segreteria, quindi per quanto riguarda l'iscrizione degli atleti, per quanto riguarda le collaborazioni, per quanto riguarda le ricevute dei minori, perché ci occupiamo anche dei minori, quindi con tutta la parte amministrativa, andiamo anche a coprire la parte fiscale. Il fisco sta controllando le associazioni sportive. Il nostro software nasce con l'intento di agevolare le associazioni nella gestione amministrativa, ma soprattutto fiscale del Terzo Settore.